Presso il Palazzo del Quirinale ho avuto l'onore di incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con il Capo dello Stato ho avuto un cordiale e positivo colloquio in merito alle grandi opportunità che la Calabria, porta dell'Europa sul Mediterraneo, avrà nei prossimi anni. Ringrazio il Presidente per la disponibilità e per il sincero interesse mostrato nei confronti della nostra Regione, lo afferma in una nota il Presidente Roberto Chiuto. Grazie.